Università e percorsi post-diploma, studiare in Toscana è sicuro anche in questo momento difficile dovuto dall'emergenza coronavirus. È questo il messaggio del progetto della Regione Toscana Studio Sicuro, nato per orientare i giovani nella scelta didattica post-diploma attraverso una campagna di informazione e un sito internet con tutte le informazioni tra diritto allo studio e percorsi formativi. La Toscana durante l'emergenza covid ha adottato tutti i provvedimenti necessari per permettere agli studenti di poter continuare a studiare in sicurezza. Ma non solo, la Regione ha stanziato 6,5 milioni di euro tramite l'Azienda per il diritto allo studio per misure straordinarie in aiuto di studenti e borsisti. Abbiamo messo in campo tutta una serie di misure e soprattutto abbiamo messo in campo tante risorse che sono risorse regionali e risorse nazionali e risorse del Fondo Sociale Europeo attraverso appunto GiovaniSì sia per raccontare ai giovani che studiare in Toscana si può fare sia appunto per sostenerli nel loro studio. La Regione infatti ha anche disposto per l'anno scolastico 2020-2021 borse straordinarie covid e contributi per alloggi dei fuorisede. Un messaggio dalla doppia valenza quindi studiare in Toscana è sicuro sia dal punto di vista del diritto allo studio ma anche per i provvedimenti anti-covid adottati durante il lockdown.